La Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la condanna ad un anno e sei mesi di reclusione con pena sospesa per l'ex GIP del Tribunale di Trani Michele Nardi, riconosciuto colpevole di calugna nei confronti dei magistrati Maria Grazia Caserta e Margherita Grippo e dell'avvocato Michele Laforgia. Una vicenda finita tra la documentazione collegata all'inchiesta della Procura di Lecce che lo scorso gennaio ha portato agli arresti di Nardi e del suo collega Savasta con l'accusa di aver fatto parte di un'associazione a delinquere che pilotava processi e insabbiava indagini per favorire facoltosi imprenditori in cambio di denaro e altre utilità. Nel 2012 Nardi sostenne davanti al procuratore capo di Trani Carlo Maria Capristo di aver subito pesanti minacce dal giudice Maria Grazia Caserta e che quest'ultima aveva messo a punto un piano concordato con il magistrato Margherita Grippo e con l'avvocato Michele Laforgia per evitare di essere trasferita in un altro tribunale. Circostanze che successive testimonianze avrebbero rivelato del tutto inconsistenti. La Procura di Lecce apre così un procedimento per calugna nei confronti di Nardi, approdato alla fine a Catanzaro competente sui magistrati del distretto di Taranto dove nel frattempo si era trasferita il giudice Margherita Grippo. Come emerge dalle carte dell'inchiesta della Procura di Lecce, Nardi cercò di avvicinare il gruppo Antonio Battaglia che lo avrebbe giudicato facendo ricorso anche a diversi intermediari tra cui l'ex assessore del comune di Biceglie Vito Dettole. Tentativi che andarono tutti a vuoto dal momento che il GUP decise per la condanna di Nardi, sentenza confermata ieri in sede di corte d'appello.